Down, 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 tell me now Down, 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 tell me now Allora, siamo nel dopo partita Coalpi Soccer amatore di Patratina 3-0 Siamo con Massimiliano Di Raccio Grande factotum degli amatori Allora, la disamina della partita? Allora, la partita siamo partiti bene Abbiamo giocato discretamente Loro però alla prima occasione ci hanno fatto gol Nonostante il gol abbiamo continuato a giocare Metà primo tempo, calcio di punizione da parte di Marchetti, credo Gol sotto l'incrocio, 2-0 per loro L'inizio secondo tempo siamo ripartiti bene un'altra volta Dopo 30 secondi ci siamo mangiati un gol sulla linea E poi loro hanno controllato bene la partita E hanno fatto il terzo gol Quindi nulla da dire se non sarà la prossima Però la domanda è d'obbligo Come mai contro le dirette concorrenti Alle prime posizioni non riusciamo a vincere? Ci manca la cattiveria agonistica Che ci permette di fare forse il salto di qualità Va bene, grazie, adesso? Terzo tempo, comunque Ciao a tutti Ciao, ciao Ciao